Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15 dove c'è un chilometro di coda per lavori tra Ulla e Pontremoli in direzione Parma. In A1 rallentamenti tra Calenzano e il Bibio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 chiuso per lavori l'allacciamento con la 12 a Pisa provenendo da Firenze. Come percorso alternativo diramazione Lucca-Viareggio e allacciamento a 12 di Viareggio. A causa di questi lavori in A12 è chiuso l'allacciamento con la 11 in direzione Pisa e con la statale 1 Aurelia provenendo da entrambe le direzioni. Come percorso alternativo l'uscita di Viareggio per chi proviene da Genova e quella di Pisa-Centro per chi proviene da Rosignano. In FIPILI rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!